Allora ragazzi sistematevi con la chiesa sullo sfondo che iniziamo Sveglia! Kevin Samantha! Oh! Quel pallone! Basta! Venite qua dove metto la borsa Qua dai! Oh! Veloce però eh! Allora, signora stiamo facendo il video Signora! 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 C'è là la telecamera, possiamo iniziare? Vuole fare il video con noi? Allora fate spazio alla signora che fa il video insieme a noi Signora! Signora! Signora la borsa! La borsa! Fermati! Guardi si mi hanno rubato i documenti e tutto State felici, state buoni No, no, no Ci sta lanciando la borsa, ci sta tutto lì dentro Sei su I feel good? Era uno scherzo era È nata la borsa! Ciao! C'è tutto? C'è tutto, te l'ho presa Perché volevo darti questo E' il mio cud Ah, quindi hai anche fatto un regalo C'è un tv, vero? Ah, saluta! Bravi ragazzi! Grazie a tutti.